Oggi vedremo se la legge di Ohm vale anche con le tensioni alternate. Andremo a comporre un semplice circuito, applicheremo una tensione sinusoidale e vedremo cosa succede alla corrente. Iniziamo subito. Disegniamo un circuito in corrente alternata con un generatore qui e gli colleghiamo una semplice resistenza. Ci potremmo chiedere cosa accade a questa resistenza nel momento in cui qui gli applichiamo una tensione variabile nel tempo. Quindi la nostra tensione, proviamo a disegnarla qua, la facciamo in azzurro, la tensione V sarà una sinusoide che varia nel tempo. Questa sinusoide che varia nel tempo avrà una sua ampiezza e una sua fase, oltre che ha una frequenza che come abbiamo visto l'altra volta teniamo un po' nascosta. Ce la segniamo all'inizio e poi sempre quella sarà per tutto l'analisi del circuito. Ci potremmo chiedere se vale la legge di Ohm anche nel caso della corrente alternata. Per farlo dobbiamo provare a scrivere la tensione V in modo esplicito, quindi andiamo proprio a scrivere la funzione matematica che descrive questa tensione. Quindi avrò V per cos di, come abbiamo visto l'altra volta, ωt. La fase la lascio uguale a 0 per far più semplice. Uso il coseno, non il seno, perché è più semplice fare alcuni calcoli. Ci toglie di mezzo alcuni cambi di segno e così via. Quindi se questo segnale è un segnale da 12 volte alternato, qui mi troverò un 12 che moltiplica il cos, eccetera, eccetera. Metto qui di fianco questo ω che ho scritto, è un'abbreviazione del 2πf, che è un termine che include la frequenza. Quindi se volessi scriverlo in modo esplicito dovrei fare cos 2πfT più eventualmente la fase. Per farlo semplice usiamo questo. Ora, la corrente che circola qui dentro, immaginiamo di dimenticarci il fasore e tutto il resto. La legge di Ohm, quella normale, quindi quella classica per la corrente continua, dice che V uguale I per R. Quindi se volessi ricavare, conoscendo la tensione, la corrente che circola qui dentro, basta che io congelo in un istante quello che sta accadendo. Per esempio, mi fermo in questo istante qui, nel tempo T1, e se mi fermo lì avrò una certa tensione pari a V1. È come se avesse un circuito con la corrente costante. Quindi cosa accade lì in quel momento? È chiaro che la legge di Ohm classica per la corrente tensione continua vale sempre, anche in questo momento. Quindi mi rifaccio i calcoli con la tensione che vale V1, mi troverò un I1. Se faccio i calcoli per ogni istante, e quindi diciamo andando a sbloccare questa specie di orologio temporizzato che ho, quindi questa macchina del tempo che mi permette di fermare il tempo quando voglio, è come se stesse analizzando infiniti circuiti, uno per ogni istante, della nostra sinusoide. Posso usare la legge di Ohm applicandogli direttamente queste tensioni che variano nel tempo. Volendo ricavare la corrente, avrò V fratto R. Allora la I di T, la corrente che varia nel tempo, la scriverò così. Quindi ho 1 su R, la V la tengo da parte perché la V per me è questa funzione che varia nel tempo. Quindi avrò un valore massimo V che moltiplica cos di Omega T. Metto insieme V e R, quindi ho V fratto R per cos di Omega T. Cosa possiamo dire di questa corrente? Vedete che la tensione usa proprio un termine che varia che è il cos Omega T. Nella corrente trovo esattamente la stessa variazione. La frequenza non è cambiata, la fase non è cambiata, cambia solo l'ampiezza. E l'ampiezza non è più V, ma essendo la corrente, è V su R che è proprio la legge di Ohm quella, diciamo, statica. Se dovesse andare a disegnare la corrente sul grafico, uso lo stesso, troverò un'onda che segue l'andamento preciso di quella azzurra e di quella della tensione, avrà un'ampiezza diversa. E l'ampiezza di quest'onda qui sarà pari a V fratto R. Ma V e R sono delle costanti, R è il valore della resistenza e V è l'ampiezza massima che prende la tensione che vado ad applicare. Questa cosa qua potrei scriverla utilizzando i fasori, quindi buttando via questi coseni e quindi dicendo semplicemente se il fasore che va all'ingresso, che scrivo così, e come vi ho visto l'altra volta lo vado a descrivere dando solo un'ampiezza e una fase, lo metto qua tra parentesi, allora il fasore della corrente sarà qualcosa di simile, semplicemente con un'ampiezza diversa. Vi ricordo cos'è il fasore, il fasore è una scorciatoia per non scrivere tutto questo V per cosa ωt, ok? Mi fa un po' il riassunto e tiene buono solo ampiezza e fase. Allora, la legge di Ohm con i fasori, quindi in corrente alternata, la posso scrivere esattamente così, V fratto R. Queste lettere maiuscole con sopra il trattino stanno a ricordare appunto che queste qui sono delle sinusoidi, quindi vale esattamente nello stesso modo. Come avete visto la legge di Ohm vale anche in regime sinusoidale, quindi non ci sono differenze sostanziali. Spero che i video sulla matematica e sulle sinusoidi siano serviti per facilitarvi la comprensione di quello che abbiamo fatto. Se fossero dubbi o domande lasciatemi un commento che vi risponderò appena possibile. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!